Per tanti è solo un pallone, per me è una parte fondamentale della mia vita. Sono Giuseppe Gattani, il presidente della NPC Viedi, ma tutti nell'ambiente mi chiamano Peppe perché oltre ad essere il presidente sono il più grande tifoso di questa squadra. Abbiamo raggiunto insieme ai nostri collaboratori e ai tanti tifosi un sogno. Siamo partiti dalla Serie D tanti anni fa, sono 20 anni che faccio il presidente e devo essere stato un onesto giocatore nelle serie minori. Insieme a voi vorremmo costruire ancora qualcosa di più grande, per questo chiediamo il vostro aiuto. Il nostro gruppo è un grande gruppo di appassionati, di tifosi, di giocatori, di dirigenti, una famiglia, una famiglia allargata dove tutti partecipano a qualcosa di importante per questa città. La NPC lavora tantissimo sul settore giovanile, sul mini basket e sul sociale. Abbiamo una squadra grande di basket in carrozzina e una delle tante cose che ci siamo prefissati di fare è comprare un pullman per le nostre trasferte. Però vogliamo che siate anche voi a viaggiare insieme con noi, oltre che con la fantasia, virtualmente sarete a bordo del nostro pullman perché chi sottoscriverà questa bellissima campagna di raccolta fondi viaggerà di fatto con noi essendo presente con una foto sul logo della NPC sulle fiancate del pullman. Chi invece darà ancora di più risalto alla nostra bella avventura potrà stare con noi anche in mezzo al campo perché noi metteremo il vostro nome qui sul campo del Palazzo Junior, rimarrà stampato sul legno e quindi sarete realmente in campo con noi. Per avere un progetto ancora più completo abbiamo pensato che insieme a noi, oltre a voi tifosi, dovranno viaggiare quelle che sono le eccellenze del nostro territorio. Per eccellenza intendo quei prodotti o quelle bellezze che nessuno conosce al di fuori dei nostri compili. Per questo abbiamo deciso di integrare il progetto con l'acquisto di un camper. Sarà il camper dell'eccellente con la squadra, con il nostro pullman che sicuramente riusciremo a veicolare delle emozioni nei luoghi dove arriveremo a giocare le nostre partite in trasporto. Gioca con noi, sta in campo con noi, uniti si vince, forza NPC!